Dicevo, chiedo un favore alla stampa. Per 15 partite lasciamo fuori la squadra da qualsiasi cosa. Facciamoli stare in una bolla di serenità e di concentrazione. Parlate con me, chiedetemi a me, tiratemi le scarpe, fate quello che volete e mi assumo io la gestione del rapporto con voi in toto. Il bisogno è in silenzio stampa? No, 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 non è silenzio stampa, assolutamente. Verranno, parleranno, però il problema è che non voglio adesso incominciare a dire quello sicuro. Non è il momento, per 15 partite stiamo buoni, però, come ho detto in radio, vi dico anche a voi adesso. Una volta che tutto andrà bene, non farò una conferenza stampa, farò una festa qui allo stadio e vi dirò che sarà il primo vero Vaffa Day, dove dirò tutto, nomi, cognomi, conti correnti, non me ne frega niente di nessuno. Adesso mi tocca abbozzare anche ad alcune frasi del tipo ridicoli, ma non mi interessa e vado avanti per la mia strada. Però vi chiedo, fatemi proteggere la squadra. La squadra è la prima, l'interprete, quindi per adesso lasciamola fuori da qualsiasi polemica. Parlate solo con me, prendetela solo con me, non ci sono problemi, però lasciamoli fuori. Facciamo questo patto di ferro con voi? Ci state? Ogni volta che chiamate un giocatore ve lo faccio con io, non è un problema. Perché finché io non sono convinto come direttore tecnico, mi diceva Zinci che posso farlo, è stata chiesta la deroga. Quindi lo faccio io, fino a quando non trovo il nome giusto per la città, per me e per tanti altri che ruotano intorno all'Arezzo. Se siamo d'accordo, ragazzi, io non voglio sentire parlare della squadra. Commento rapido la partita, primo tempo contratto, secondo tempo probabilmente da un centro classifica di Serie B, come squadra, come livello e come gioco. Ripeto per la seconda volta, spero di non ripeterlo più, domani sono in Lega e vorrei chiedere questa cortesia che ci mandino arbitri che vengono più da vicino, che magari non sono stanchi come due che sono arrivati, questo e l'altro, e quindi con la stanchezza si lavora male. Non aggiungo altro e tuffiamoci dentro. Va bene? O vuoi dirmi qualcosa? Le volevo chiedere su questo, non parlando della squadra, conferma che per il 16 febbraio ci sono le coperture per pagare le... Tutti sono tranquilli fino alla fine del campionato, abbiamo sistemato tutti i tasselli che mancavano, che era la cosa più importante. Adesso c'è da rimboccarsi le maniche e andare avanti. Ci sono nuovi investitori che aiutano? Ti ho detto, per adesso non faccio il nome di un direttore sportivo perché devo quadrare il cerchio. Quindi il cerchio va quadrato con la città, con gli investitori, con il sottoscritto, e quindi per adesso siamo in fase di lavorazione. Cioè perché sono alcuni giorni di mercato? No, il mercato sostanzialmente è chiuso. Sia l'ingresso che l'uscita? Sia, sostanzialmente è chiuso perché ci mancava un centrale, io ho fatto una bellissima chiacchierata con Ferrario e da uomini ci siamo scambiati un impegno che io non ero a fine campionato e quindi abbiamo recuperato un centrale di altissimo livello. Andarne a comprare un altro mi sembra assolutamente irrilevante oggi. Dopo queste obbligazioni l'agrezzo a livello di stipendi costa più o meno? Cazzo che domanda! Costa più o meno? E stiamo pari? Stiamo pari, come diceva una volta. Motivazioni? Lasciamole sta al vento.